Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore e signori, la squadra vincitrice della Serie A Team 2011-2012, la 1-2! La squadra vincitrice della Serie A Team 2011-2012, 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 la squadra vincitrice della Serie A Team 2011-2012 Un segnale campione d'Italia con il numero 7, Simone Rebbe! Il campione d'Italia con il numero 8, Claudio! Signori, il campione d'Italia con il numero 11 è Paolo! Con il numero 13, Alessandro! Campione d'Italia, indossa la maglia numero 14, Tito! Assegniamo il numero qualche minuto fa nel campione d'Italia con la maglia numero 15, Andrea! E' il campione d'Italia con la Juventus, la sua maglia numero 17, Alessandro! E' il campione d'Italia, il suo numero è il 18, Claudio! Buona idea! Una colonna! La sua maglia è il numero 19! E' il campione d'Italia, Leonardo Rebbe! E' il campione d'Italia, Leonardo Rebbe! E' il campione d'Italia numero 20, Simone Rebbe! E' il campione d'Italia! E' il campione d'Italia! E' il campione d'Italia! Non ci sono più aggettivi per definirmi! Indossa la faglia 9, il ventuno della Juventus è Andrea Pino! La mano nella sua nazionalità, sulle spalle, sotto la mano attivese, per tutti gli juventini, è il numero 22, Arturo Pino! E' il campione d'Italia! Indossa la faglia numero 23, Emanuele! Con il mare numero 24, straordinario campione d'Italia, Emanuele! Indossa la faglia numero 26, campione, Stefan Pino! E' il campione d'Italia, con la Juventus, il numero 27, Pino! Emanuele! Anche lui, sulla piazza della mania che ancora era sulle spalle, nella mia situazione. E' il numero 28, il campione, Marcelo! E' il campione! Indossa la faglia è un numero per noi molto particolare. Il numero 30, il campione, Marco Solari! Campione d'Italia con l'Alemagna numero 32, Alessandro! Assognato, un'ora e mezza fa, un'altra straordinaria. E il campione d'Italia con l'Alemagna della Juventus, la numero 34, Lucia! Lo staff tecnico della Juventus, la squadra, Angelo Nessio, Cristian Stettini, Cassimo Cabrera, Paolo Bertelli, Claudio Filippi, Roberto Sassi, Julio Dusser, lo staff tecnico! E' lo staff tecnico a comandare la sua Juventus per tutta la stagione! E' il mister campione d'Italia! E' il nostro donatore, Antonio Sassi! Erochi! Erochi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Presidente della Lega Serie A, Patrizio Moretta, consegna la Coppa Campione d'Italia 2011-2012, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.